C'è quel complotto contro AstraZeneca di cui taluni favoleggiano il vaccino che costa poco dalla facile logistica che magari sarà destinato ai poveri del pianeta mentre i ricchi si faranno quelli con mRNA, quelli che vanno stoccati nei frigoriferi a bassissime temperature, maglie e poi molinari. AstraZeneca all'inizio lo ha proprio non preso in considerazione, poi ha fatto battere la campagna polemica contro Boris Johnson e contro l'Inghilterra, poi non è stata presa in considerazione l'offerta dell'India che ne è produttrice per il 60%, poi fin dall'inizio si è detto che certe fasce di età non erano adatte, poi ancora il fatto che si potesse produrre in Italia non è stato preso in considerazione, Infine il gesto eclatante della Merkel, chi ha costruito il pregiudizio? Siccome ho sentito prima parlare di errori della comunicazione e dell'informazione e per carità l'informazione si prende tutte le sue responsabilità ma in questo caso le responsabilità sono strettamente politiche o meglio dell'intreccio politica affari. Dopodiché da domani, guai a noi se oggi pomeriggio, lo dico da persona che è da cittadino, guai a noi se mette molti paletti oggi il lema, perché già sarà molto difficile far riconquistare la fiducia. Figuriamoci se ci sono dei paletti, certo AstraZeneca in questa parte di continente è segnata da uno stigma che sarà difficile far superare, non c'è niente da fare, è nata così e non è stata fatta in buona fede.